Questa settimana è ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione degli interquartieri di Muraglia. 5,9 milioni di euro per un maxi intervento che ha come committente Società Autostrade, che è supervisionato dal Ministero delle Infrastrutture e che rappresenta un primo passo nel più ampio pacchetto di oltre 70 milioni di euro di opere accessorie della stessa Società Autostrade. Lavori che sono partiti in via Lombroso di fronte all'ospedale futuro polo cittadino della città e della provincia e nel primo stralcio di opere arriverà fino agli orti di Muraglia fungendo da Bretella con il tratto di interquartieri già esistente in un percorso a due corsie per un chilometro e mezzo che finirà per unire complessivamente il casella autostradale all'area più meridionale della città. Ripulite le aree verdi incolte precedute dal delicato intervento di traslazione dell'acquedotto da parte di Marche Multiservizi, i lavori sono stati avviati e stando alla consegna dell'opera affissa sulla recinzione dovrebbero essere ultimati nella primavera del 2023. Prima di quella data però dovrebbero sbloccarsi altri interventi in agenda dalla Bretella di Santa Veneranda al raddoppio di corsie del primo tratto di interquartieri.